Allora un ringraziamento prima di tutto a Unione Italiana Vini e a Giovanni in particolare per l'assistenza che ci ha dato in questi giorni per arrivare a questo convegno. Allora io devo fare in una ventina di minuti un quadro su quello che è lo stato idrico, la ricerca sullo stato idrico. E in realtà vedete i punti da esaminare sono tanti, relazioni idriche della vita, una fisiologia consolidata o quasi, quei puntini in realtà hanno un'importanza che poi alla fine vedremo è rilevante. Il concetto di efficienza di uso dell'acqua che è qualcosa che a volte sfugge. Il punto 3 è un punto su cui oggi io cercherò di concentrarmi in maniera particolare perché ultimamente la percezione che alcuni assunti che sono stati in voga per tanto tempo, ovvero che lo stress idrico vada sopportato in alcune fasi sia più sopportabile in altre, sta un po' cambiando, almeno a mio modo di vedere. Alcuni accenni sui nuovi strumenti che siano questi genotipi o modelli. Quando parlo di genotipi ovviamente mi riferisco anche ai portinnesti. E poi c'è un ultimo punto che ho messo lì, di sicuro non avrò il tempo di parlarne, ma l'ho messo lì come provocazione perché probabilmente rappresenta un po' anche il futuro. Perché quando ci si sente dire, ma io non ho l'acqua per irrigare, come posso fare per difendermi? Credo che anche questa legittimissima domanda dovremmo dare qualche risposta. Allora, molto brevemente comincio con un'immagine malinconica. Tutti vedete qui degli aspetti negativi legati o allo stress idrico o a stress termici e diciamo di eccesso luminoso. Vedete in alto a sinistra un grappolo del nostro sangiovese che proprio nella parte più esposta, vedete, non ha colore. Quella mancata colorazione è legata essenzialmente a un eccessivo riscaldamento del grappolo. Quello è un grappolo, poveretto, che va a 40 gradi d'estate, quindi a 40 gradi il colore c'è poco da fare, fa fatica a venire fuori. A destra vedete un esempio di scottatura e in basso un'immagine di stress idrico severo. Alcuni ormai sono abituati a questo tipo di scena in maniera abbastanza frequente. La vita è per la verità, da un punto di vista della percezione visiva, è anche abbastanza generosa, nel senso che ci dà dei segnali. I segnali sono anche percepibili. Vedete qui in alto a sinistra c'è un apice vegetativo fermo, vedete che è già quasi giallito e non ha crescita vegetativa. A destra vedete un apice vegetativo invece vigoroso, che cresce, turgido, curvo. Sono segnali elementari che ci dicono che c'è uno stress che sta arrivando. Poi in basso c'è questa immagine particolare della foglia che assume una verticalità, cioè cerca di sfuggire alla radiazione incidente appunto perché vuole risparmiare acqua. È un altro dei segni relativamente precoci dello stress. Poi bisognerebbe discutere se questo segno di stress è abbastanza precoce oppure no. Secondo me no, però diciamo che aiuta a capire che le cose non stanno andando nella giusta direzione. Questa è un pochettino la figura fondamentale che ci fa capire come in realtà chi applica la tecnica di uno stress idrico controllato abbia delle basi fisiologiche certamente buone. Ve la spiego in questo senso. Io adesso dovrei anche girarmi. Mi dai l'altro microfono, scusami, che così mi posso allontanare. Funziona già, sì. Ecco, vedete qui c'è un potenziale idrico fogliare che è un indicatore di stress e vedete i due andamenti della crescita del germoglio in percentuale e della fotosintesi. Allora, se noi arriviamo a potenziali fogliari di un certo tipo, abbiamo buone possibilità di calmare la crescita vegetativa senza al tempo stesso vedere la fotosintesi che si abbassa. Quindi tutti noi vorremmo essere capaci di regolare il vigneto in uno di questi punti. Facile a farsi? No, facile a dirsi, difficile a farsi. Chi ci riesce? Ci riescono chiaramente quelli che, fortuna loro, lavorano in ambienti in cui in estate non piove mai, che non sono i nostri ambienti. Allora, questo vedete, è una prova californiana dove irrigano forzatamente tutti gli anni. Da questa immagine, queste fotosintesi su conduttanza stomatica, che è una parolaccia per dire consumo idrico, voi vedete che in questo caso queste sono delle restituzioni idriche 20%, 60%, 100%, addirittura 140%. Qual è la restituzione idrica ottimale? Ovviamente è questa, perché vedete, vi preserva la massima fotosintesi, ma al tempo stesso vi fa risparmiare acqua. Allora, poter consigliare ciascuno di voi sulla base di questo tipo di rapporto ideale sarebbe bello. Il problema, ripeto, è che questa cosa si può fare nel momento in cui tu non hai un'interferenza pesante delle piogge e dai un perfetto controllo del sistema di irrigazione e sai dove sono le radici. Cosa che noi Diego, in alcuni casi, proprio non è che lo sappiamo in maniera precisa. Allora, questa è la curva doppia sigmoide del nostro grappolo, quindi diciamo, il dibattito è stato per molto tempo, cosa succede prima dell'invaiatura, cosa succede dopo l'invaiatura. Devo comportarmi in maniera differenziale, la vita è più sensibile prima di quella fase o dopo quella fase. Ci tornerò in un attimo. Di sicuro tra le centinaia di studi che sono stati fatti in merito agli effetti dello stress idrico sul comportamento della vita diciamo che forse l'effetto macroscopico è esattamente questo. Tutti noi sappiamo che se voi andate a stressare prima dell'invaiatura la risposta in termini di contenimento del volume dell'acido è maggiore che non imposto in invaiatura. Questa è una cosa che si sa da tempo. C'è un bellissimo grafico che io adoro, che è questo, che guardate come vi fa capire bene sulla curva doppia sigmoide cinque epoche di stress idrico e in rosso vedete la perdita di produzione per ogni giorno di stress che avete applicato. Allora vedete che se avete uno stress precoce avete una perdita elevata e questa via via si va a spegnere man mano che andate verso il fondo. Ma queste sono le cose che si sanno. Faccio un breve riepilogo in maniera tale da dare qualche elemento di conoscenza in funzione delle diverse fasi. Allora è del tutto evidente, qui purtroppo è ancora in inglese ma è molto semplice, allora dal germogliamento alla fioritura, insomma a meno che non ci siano veramente annate molto strane, non ci sono di solito grossi problemi, almeno quello. Andiamo a vedere chiaramente la fase intorno alla fioritura e intorno alla legazione, è una frase delicatissima per quello che riguarda il fabbisogno idrico. Voi sapete che la dimensione finale dell'acino la si decide in quelle 3-4 settimane che partono dalla fioritura in poi. Se avete uno stress idrico che vi colpisce la pianta in quella fase, anche breve, potreste trovarvi alla fine, come si vedeva dal grafico di prima, un decremento ponderale che è piuttosto rilevante. Quindi in questo caso attenzione. La fase cosiddetta di stasi, vedete, è quella fase che di solito capita nella seconda metà di luglio, in cui l'acino cresce pochissimo da un punto di vista volumetrico, perché c'è in quella fase una preponderanza di completamento delle strutture del seme, in quel caso lì chiaramente c'è un periodo in cui probabilmente il fabbisogno idrico non è particolarmente leato, ma oggi il punto della discussione è questo. Cioè, in prossimità dell'invaiatura e dall'invaiatura in poi, gli elementi ultimi della ricerca tendono a dire che all'invaiatura l'acino diventa tollerante allo stress è un qualche cosa che deve essere come minimo rivisto, alla luce poi di alcune cose che farò vedere, certamente soprattutto la fase proprio che richiama l'incremento esponenziale di zucchero che voi avete essenzialmente nella prima, seconda settimana dopo l'invaiatura è evidentemente una fase di grosso richiamo idrico da parte dell'acino. Quindi in quel caso lì non ci deve essere una carenza idrica perché altrimenti il contraccolpo può essere ancora sulla resa perché il volume viene ad essere comunque in qualche modo modificato ma soprattutto a livello qualitativo perché non dimentichiamoci che in quella fase c'è l'incremento esponenziale del grado zuccherino. Quindi se vi si crea un'alterazione della pendenza non è detto che poi riusciate a riprendere la pendenza più avanti e ad arrivare alla gradazione zuccherina che volete. Allora guardate, tre casi molto particolari. Ci sono anche delle cose abbastanza strane, fra l'altro mi piacerebbe capire se qualcuno dei produttori, dei viticoltori che è presente ha mai avuto casi del genere. Sono quasi sicuro di sì. Questa è una fotografia che viene da un mio collega del Washington State dove hanno spesse volte un germogliamento molto molto disforme o molto in qualche modo rado eccetera eccetera e questo succede quando c'è una quantità di pianto troppo scarsa. Cioè quando la vite piange male o non piange il germogliamento può avvenire in una maniera molto complicata. Questo succede a loro perché nel loro ambiente spesso e volte hanno degli inverni siccitosi. Tant'è che loro spesso e volte irrigano prima del germogliamento in maniera tale da consentire una reidratazione progressiva e da consentire un pianto che sia regolare. Quindi quando ogni tanto in primavera uno fa un'osservazione e dice ma quest'anno è partito male eccetera eccetera magari potete anche fare un ragionamento su questo aspetto. Magari invece il terreno è completamente zuppo d'acqua e quindi non è questo. Però va tenuto in considerazione. Secondo punto, questo è un caso che tutti quanti conoscono questo vedete è un ingiallimento precoce fogliare dovuto ad uno stress relativamente tardivo e uno dice vabbè mi si ingialliscono le foglie a pazienza beh insomma piano perché quelle foglie basali che ingialliscono precocemente prima di cadere traslocano per esempio il potassio ai grappoli e allora sapete che tanto potassio ai grappoli poi dopo ci porta ad una serie di possibili inconvenienti quindi non è proprio indolore questo tipo di passaggio. E poi ecco questa è forse la parte più nuova quanti di noi hanno visto magari anche quest'anno certamente in annate passate dei fenomeni di raggrinzimento, di disidratazione di appassimento dell'uvo in posto invaiatura. Sicuramente tanti. Allora bisogna capire a questo punto un pochettino meglio questo benedetto acino da un punto di vista idraulico come si comporta? E vi posso dire che direi la stragrande maggioranza degli studi di fisiologia dell'acqua sulla vite in questi ultimi dieci anni si è proprio occupata di questa problematica cioè di capire, allora guardate questa è una foto secondo me veramente molto carina che vi fa capire quali sono le vie attraverso le quali l'acino riceve e perde acqua. Allora vedete l'acino chiaramente perde acqua per traspirazione diretta attraverso la cuticola l'acino non è provvisto di stomi ma c'è una traspirazione cuticolare quindi l'acino è in perfetto equilibrio con l'ambiente ma vedete c'è questa freccina gialla un po' subdola che vedete è acqua che dall'acino viene spinta per un meccanismo che si chiama di backflow cioè di flusso verso la pianta che viene spinta verso la foglia o verso il germoglio quindi sono due fonti di perdita le due fonti di entrata sono quelle canoniche sono l'oxilema e il floema dite benissimo tutto semplice no purtroppo nella vite c'è una complicazione notevole cioè che per una serie di motivi che adesso non analizziamo dall'invaiatura in poi la quantità di acqua che entra nell'acino non viene in grande maggioranza dall'oxilema ma viene dal floema non perché l'oxilema si blocchi abbiamo scoperto ma semplicemente perché l'altro è una via preferenziale quindi l'oxilema rimane aperto quindi l'acqua può comunque tornare indietro ma l'acqua che entra è quella floematica allora uno dice è noi tutto sommato ecco guardate questo è il dato vedete per farci capire nel momento in cui i flussi in entrata gilema più floema superano quelli in uscita avete i classici fenomeni per esempio di spaccatura di cracking l'acino addirittura spacca perché va in sovra pressione mentre in questo caso è il contrario le uscite sono maggiori delle entrate avete una situazione di raggrinzimento allora il dato secondo me più nuovo che abbiamo è questo vedete qui ci sono due grappoli uno accanto all'altro questo non ricordo bene la varietà questo è maturo e questo non lo è per niente ma sono due grappoli contigui quindi hanno la stessa perché uno non è maturato e l'altro è maturo il problema è che vedete ipotesi molto recente leggo la frase così non ho problemi è che il segnale di aumentata pressione nell'acino trasferisce un segnale alle foglie che rallenta o ferma del tutto il flusso floematico ergo l'acino deve poter traspirare mi spiego questo grappolo qui non è maturato perché era stato trattato con una sostanza antitraspirante cioè una sostanza che impediva all'acino di traspirare ma qual è stato il risultato? non è stato un risultato a livello di stato idrico è un risultato a livello di maturazione cioè un grappolo che non traspira come dovrebbe non accumula zucchero guardate che questa è una novità importante una novità importante perché noi siamo abituati a dire in posto in vettura bisogna tenere il grappolo ventilato perché l'umidità, la botrite eccetera eccetera non solo per quello ma anche perché se noi impediamo all'acino di avere un ciclo notturno e diurno di traspirazione normale cioè l'acino si inturgidisce di notte e si restringe un po' di giorno perché traspira non avremo anche il ritmo normale di maturazione questo è molto importante poi vabbè quattro minutini allora in quattro minutini vi dico due cose rapide la variabilità in funzione del vitigno Sangiovese, Montepulciano questa è una foto del mio amico Pagliotti che non so se è già arrivato ad ogni modo vedete questo è lo stesso vigneto due filari uno accanto all'altro e voi direte guarda il Sangiovese come ha messo male foglie gialle invece l'altro è bellissimo foglie verdi c'è il trucco? c'è il trucco perché in realtà questo questa chioma di Sangiovese vedete ingiallisce le foglie basali ma queste foglie qua in alto hanno ancora una buona attività fotosintetica mentre il Montepulciano che è un avaro in questo senso chiude gli stomi mantiene le foglie verdi ma la fotosintesi in quella chioma è quasi uguale a zero quindi io non so quale dei due si comporta meglio da un punto di vista dello stress faccio per dire caro Diego lavoriamo di più anche sul comportamento allo stress dei singoli genotipi perché qui le differenze possono essere macroscopiche vado veloce abbiamo fatto tante prove di scambi gassosi su chiomi intere vedete questo qui è una pianta che è inglobata in un pallone per misurare la fotosintese e la traspirazione vedete questo ingiallimento basale precoce è un sintomo tipico di uno stress che sta arrivando naturalmente ieri il buon Lucio ha ricordato i portinesti della serie M caro Lucio ciao allora oggi ti do un altro assist nel senso che vedi questa è efficienza di uso dell'acqua che vuol dire il rapporto fotosintesi traspirazione quindi il rapporto che conta in un certo senso in SO4 noi abbiamo applicato uno stress al 50% in questo periodo e vedete in SO4 non ci sono differenze tra lo stressato e il controllo il controllo è il pallino nero lo stressato è il pallino vuoto quando vai su M4 vedete che la risposta c'è allora non è che tutto il lavoro è fatto nel senso che la seconda parte del lavoro è quella di dimostrare che questa caratteristica estremamente positiva si traduce poi effettivamente in vantaggi di carattere produttivo e qualitativo questo ancora non lo abbiamo visto almeno io non l'ho visto personalmente però è chiaro che è una linea di lavoro importante ultimissima cosa ieri abbiamo visto una tante relazioni sui sistemi di supporto alle decisioni anche questo è un aiuto per il viticoltore mi spiego un'azienda che non ha mai avuto a che fare in vita sua con i problemi di stress idrico e che lo deve fare per la prima volta è disorientata perché non abbiamo in alcuni casi una cultura dell'intervento in riguo ma non per colpa nostra semplicemente perché non ne eravamo abituati allora i modelli che vengono per esempio offerti in termini di sistemi e supporto alle decisioni sono utili vi faccio vedere solo questo esempio vedete una certa azienda un certo vitigno la riserva idrica del suolo che cala progressivamente c'è una prima soglia di allarme una seconda fino ad un esaurimento completo uno dice cosa me ne faccio intanto allora facciamo così tu hai il quadro della situazione e quando arrivi al giallo che è una prima soglia di allarme cominci a stare un po' in campana magari fai un giretto in vigna vedi se ci sono dei sintomi ci siamo poi uno dice ma sono andato a vedere non c'era nulla allora aspetti vai e arrivi in questa zona qua arrivi al rosso vai a vedere in campagna non ci sono sintomi cos'è qualcosa che non va non è così in realtà questi modelli lavorano con dei dati di default per esempio dicono la profondità dell'apparato radicale è mediamente un metro 80 centimetri se io di fronte ad un allarme non vedo uno stress cosa vorrà dire probabilmente che quelle radici riescono ad andare anche più in profondità posso a quel punto correggere il modello aumento la profondità del serbatoio e nel momento in cui andrò finalmente a trovare una corrispondenza tra sintomi e quello che io leggo lì a quel punto da quel giorno in avanti potrò usare il modello per poter in qualche modo fare una strategia in rigua 10 secondi di ritardo sono accettabili e quindi mi considero soddisfatto grazie 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 grazie